L'apertura dello sportello dedicato alle persone sorde qui all'UPS è un significativo passo avanti verso l'inclusione e l'accessibilità nel nostro territorio. L'UPS, l'ufficio di promozione sociale in cui ci troviamo, è già uno spazio accogliente, accessibile e funzionale come punto di primo accesso di segretariato sociale e con questo ulteriore sportello questo servizio diventa ancora più articolato perché si affianca allo sportello LIS che è aperto il mercoledì e il venerdì, LIS è la lingua italiana dei segni e questo nuovo sportello invece è aperto il venerdì dalle 15 alle 18 che invece si rivolge e dà supporto alle persone sorde, ai loro familiari o alle persone che in generale hanno bisogno di contattare l'ENS che è l'ente nazionale sordi, in particolare quello della provincia di Pesaro e Urbino. Quindi ecco, davvero un segnale concreto per dimostrare che il nostro ambito, l'ambito sociale 6 va nella direzione di una maggiore prossimità, di una maggiore inclusione ed accessibilità.